Debutto stagionale per il San Termete tra le Muramiche e anche i Severdi si ritrovano a giocare in questa stagione a Spadarolo. Ospite è straquotato Gambettola che al debutto ha ottenuto i primi tre punti con la San Pierana, invece per gli uomini di Pazzini è arrivata una sconfitta in quel di Bellaria. Gli ospiti provano a sbroccare da subito da calcio piazzato di Alilei, Bernacci colpisce di testa spedendo il pallone tra i guantoni di Dallara. Il San Termete replica con questa incursione di marcaccio, il numero 8 protegge bene la sfera, arriva alla conclusione e ribatte il muro del Gambettola dando l'opportunità a VK di sparare verso la porta avversaria senza effetto. I Verdi, oggi in maglia rossa, provano a bucare la retroguardia con l'ex Verrucchio Tentoni, comoda presa per Renzetti in questo caso. Gli uomini di Pazzini tentano ancora una volta la via del gol con Mezzogor, buona l'intenzione, meno la mira. Si prova anche Delia dalla distanza, Renzetti blocca senza problemi. L'occasione più limpida per i padroni di casa è prodotta sulla destra, attraversone al centro, invita a nozze per Mezzogor che mette clamorosamente a lato da due passi. A distanza viene fuori il Gambetto, la cross di Giulianelli, colpo di testa di Bernacci che si perde a lato. Dall'angolo gli ospiti andrebbero anche in gol con Bernacci, poderoso, lo stacco di testa ma l'arbitro annulla per una carica avvenuta in area di rigore. Il San Termete prova venire fuori da un momento delicato, marcaccio chiama la respinta a Renzetti, se una ribattuta capitanova non inquadra il bersaglio. La partita è avvincente, qui Bernacci di testa fa quello che vuole ma mette a lato. I gol sono rimandato di qualche minuto, lo scambio Bernacci-Cappellini, tutto made in Cesena, porta al gol quest'ultimo con Dall'Ara, è sulle da colpe. Sarà questo il gol partita. Su finire di tempo Alberighi con una parabola sporca rischia la beffa, Dall'Ara alza sopra la traversa. Nella ripresa le emozioni latitano, VK chiama la facile presa da punizione, l'attento Renzetti. Dall'altra parte, dalla distanza, Halilei rischia di beffare Dall'Ara. Il San Termete va vicinissimo al pareggio in contropiede, VK serve a Delia un assist che lo manda dinanzi a Renzetti, ma è provvidenziale la chiusura della difesa ospita che vale quanto un gol. Nel finale, sotto una pioggia battente, Cappellini appoggia per Giugnianelli che spara alto. Le azioni latitano e si vede questo tiro a giro arrivato nel recupero che non reca problemi a Dall'Ara. Il Gambetto lo ottiene il secondo successo in stagione, per il San Termete invece il secondo K.O. dopo quello di Bellaria.